Però la birra è buona e siamo sicuri che non vi bevete schifezze estreme da discount e puttanate da importazione. Soprattutto per tutti quelli fashion che devono fare le gite nei paesi tropicali, portiamo a casa roba di tendenza. Sono tendenze che a noi non interessano. Sono tendenze di tutti i tipi che non vanno bene. Parliamo di quelle alcoliche. Alle Hawaii, se volete vi bevete le noci di cocco, ma la birra ve la bevete in Germania oppure qui all'Octoberfest. Perché? Che minga! Birra! Alle Hawaii! Beghi torri sul biceo! Dei miงabila! Alle Hawaii! Che minga! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti